Il procuratore Capo Amendola ricorda le inchieste e le indagini sulla centrale, la auspica a un presidio permanente, il registro dei tumori ed un'indagine epidemiologica. Cirita Vecchia in festival, il tribunale ha respinto il ricorso di Armando Napolitano, la pegna che annuncia denuncerò il sindaco Tidei. Il dottore della Nazionale Italiana di Pallanuoto Giovanni Melchiorri ha portato un po' di Civitavecchia alle Olimpiadi e domani il Settebella affronta all'Ungheria. Ben trovati dal Tg Alto Lazio, un presidio permanente per controlli costanti all'interno della centrale, affidato ad un ente terzo come l'ARP Lazio, il registro dei tumori ed una serie indagine epidemiologica. Questi tre interventi che, se messi in atto, potrebbero davvero tranquillizzare la cittadinanza sulla situazione della salute e della sicurezza relativa alla centrale Enel di Torre Valdalica Nord, ma non solo. Ne è convinto il procuratore Capo Gianfranco Amendola, che ha deciso di intervenire nel dibattito nato dalla volontà del sindaco Pietro Tidei di voler chiudere la centrale. Lo sentiamo in questo servizio. Sarà tranquillo sulla salute e la sicurezza del territorio solo quando verrà creato un presidio permanente dell'ARP Lazio alla centrale Enel, istituito un registro dei tumori ed avviato una serie indagine epidemiologica sul territorio. A pochi giorni dall'annuncio del sindaco Tidei di voler chiudere Torre Nordi, il procuratore Capo Gianfranco Amendola ha deciso di intervenire per sottolineare l'attività svolta negli ultimi anni dalla magistratura locale. Abbiamo sempre tenuto ben presente il discorso relativo alla centrale, ha sottolineato con un'intensa attività e numerose indagini avviate, a partire da quella sull'autorizzazione rilasciata sul vecchio impianto. Secondo la procura, infatti, andava aggiornata con l'entrata in vigore del nuovo impianto, tanto che il procuratore Capo chiese il sequestro preventivo della centrale, non accolto però dal giudice. Da quel momento, ha aggiunto, si sono messe in moto le procedure per aggiornare l'autorizzazione. La nostra attenzione si è rivolta anche sul rispetto delle prescrizioni, dall'interramento completo degli elettrodotti alla realizzazione del bosco Enel ai piedi della centrale, nel parco dei serbatoi, alle modalità di trasferimento del carbone, sulle quali è intervenuto anche il NOE riscontrando polveri che fuoriuscivano al momento dello scarico. Mentre si sta ancora attendendo l'attivazione di due delle quattro centraline affidate all'Arpalazio sul controllo della qualità dell'aria, la procura ha ricordato le indagini sulla presenza di discariche abusive, per la quale sono a giudizio diversi responsabili, lo stoccaggio non autorizzato e la presenza di rifiuti nei fanghi di dragaggio. E ancora le inchieste aperte per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, alcune delle quali concluse con l'oblazione, quelle sulle morti e sugli incidenti nei cantieri, che hanno portato anche al controllo su tutti gli appalti, i fumi e rumori notturni, l'incendio, oppure ancora la presenza di idrocarburi in un serbatoio di acqua. In questo caso però non c'è la prova che il liquido andasse a finire in mare. Un'attenzione quindi sempre costante sulla centrale. Sinistra Ecologia e Libertà torna a chiedere le dimissioni del direttore generale dell'ASL Roma F Salvatore Squarcione a causa del suo no all'instaurazione del registro tumori. Il movimento politico a tal proposito, viste le dichiarazioni del sindaco Tilei durante l'ultima conferenza dei sindaci, in cui chiedeva la riconferma della direzione sanitaria, dichiarazioni da cui SEL prende le distanze, e chiede ai sindaci del distrito sanitario Roma F di esprimere un parere in merito alla riconferma del team dirigenziale della ASL. Sospeso il presidio delle sei lavoratrici dipendenti della crociata Blu Onlus, la decisione è stata presa dopo l'incontro che si è svolto tra l'assessore alle politiche per il lavoro Sergio Serpente, il delegato ai rapporti con Enel Mauro Guerini e i rappresentanti di Enel, la ditta SMA e le organizzazioni sindacali territoriali, confederali e delle categorie interessate. Ne abbiamo parlato con il segretario della CGL, Cesare Cagliazza. Sentiamolo. Per quanto riguarda Enel, dopo lo sciopero dei giorni scorsi, un primo passo in avanti per quello che riguarda la vertenza sul punto di primo soccorso. Sì, questa mattina ci siamo incontrati presso l'assessorato al lavoro del Comune, con Enel, con il delegato per i rapporti con Enel del Comune, l'assessore al lavoro, la ditta che si è giudicata, l'appalto per il pronto soccorso e il servizio d'ambulanza all'interno della centrale di TV Nord. E abbiamo condiviso di rincontrarci a settembre per provare insieme, e mi è parso insomma di registrare affidamenti importanti, per provare insieme a risolvere positivamente questa vertenza con la riassunzione di tutte e sei le lavoratrici. Che voglio ringraziare per un presidio importante al quale hanno dato vita in questi giorni, un presidio legato non solo alla loro lotta, alla battaglia per l'indifesa del loro posto di lavoro, ma che ha contribuito, a mio giudizio, anche ad affermare passi avanti importanti verso quegli obiettivi che come sindacato ci siamo dati. E che oggi abbiamo condiviso con un avviso comune, sottoscritto appunto anche dall'assessore al lavoro e dal delegato per i rapporti con Enel, un avviso comune dove sostanzialmente ci impegniamo a lavorare per un protocollo che impegni tutte le realtà industriali e produttive del territorio a fare gare per rinnovi d'appalto che contengono clausole di salvaguardia per l'occupazione in essere per la mano d'opera locale, gare di appalto che superano la logica del massimo ribasso. Queste lavoratrici hanno contribuito ad attualizzare questi temi che sono temi generali e complessivi e che riguardano tutte le realtà produttive di questo territorio. È per questo che mi sento di ringraziarle davvero. Proseguono le indagini e le verifiche della Capitaneria di Porto, coordinata dalla magistratura locale sul malfunzionamento del depuratore cittadino. Una volta accertata infatti la presenza di idrocarburi, che nelle scorse settimane hanno mandato in tilt una delle due linee, riducendo la capacità filtrante dei fanghi. La Capitaneria sta procedendo a verifiche a monte per cercare di risalire alla provenienza degli idrocarburi, analizzando i diversi impianti e strutture presenti in città. Settendone invece i risultati di Arpalazio e dei carabinieri del Noe sulle verifiche eseguite sullo sversamento in mare avvenuto nei giorni scorsi al Piergo per ricostruire quanto effettivamente avvenuto. Sono stati restituiti a Civitavecchia quei 25 litri d'acqua al secondo che Acea nei giorni scorsi aveva sottratto. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici Mirko Mecozzi. Pian piano spiega a Mecozzi l'erogazione sta tornando alla normalità in quelle zone colpite dal taglio di Acea, quindi possono rassicurare, aggiunge l'assessore e gli abitanti delle zone interessate. Ricorda che per qualsiasi disagio è sempre possibile contattare il numero dell'ufficio Acquedotto 0766 590401 e raccomanda di evitare gli sprechi. Intanto a puntare il dito contro l'amministrazione comunale per i rubinetti a secco dei Civitavecchiesi è il presidente dell'associazione Il Popolo della città Antonio Cacace. Un'estate così a secco non si ricordava da almeno una decina di anni. Il sindaco Tinei vuole portare l'acqua calda della Ficoncella a valle. Noi Civitavecchiesi ci accontenteremmo se riuscisse a portare l'acqua potabile nei rubinetti delle nostre case a secco dall'inizio dell'estate. Problema quello idrico che sembra aver colpito anche i distributori Acquasalus che nei giorni scorsi a causa della poca pressione dell'acqua hanno avuto problemi sul loro regolare funzionamento. Anche in città è arrivato Nerone con la sua morsa di caldo e afa e temperature elevate. Bollino rosso per le giornate di oggi e domani con una temperatura massima di 31 gradi ed una temperatura massima percepita di ben 38 gradi. E cambiamo decisamente argomento, Armando Napolitano Lapegna dopo la decisione del Tribunale di non accogliere il suo ricorso contro l'annullamento del Civitavecchie in Festival ha deciso di andare avanti nella sua battaglia denunciando anche il sindaco di Tei. Sentiamo il nostro servizio. Denuncerà il sindaco Pietro Tidei per dargli morali e materiali perché è stato lui con una sua decisione a non voler prendere in considerazione l'edizione 2012 del Civitavecchie in Festival già pronta. Lo ha annunciato il produttore Armando Napolitano Lapegna all'indomani della decisione del Tribunale di non accogliere il suo ricorso contro l'annullamento del Festival. Non presenterò ricorso, aggiunto, anche se la considero una sentenza ingiusta in quanto non coerente con la mia richiesta, quella di poter svolgere il Festival. Come spiegato anche dal legale di Lapegna, l'avvocato Armando Taglieri, infatti il provvedimento emesso si basa e valuta solo il risarcimento dei danni ha spiegato che sarà oggetto invece del giudizio di merito nella determinazione e nella quantificazione. L'interesse più volte ribadito non era ottenere in questa sede il risarcimento dei danni come vuol far credere il Tribunale, ma organizzare il Festival come desiderio e volontà in cui Lapegna ha sempre creduto e per cui ha lavorato da tempo. Lapegna ha annunciato quindi che si rivolgerà al Tribunale di Roma per il risarcimento danni, citando Enel e Comune, considerato una presunta incompatibilità ambientale dei giudici locali. Rappresenta comunque una vittoria l'aver avuto la possibilità di discutere ad agosto dell'organizzazione dell'evento, ha aggiunto poi l'avvocato Taglieri, e l'aver dimostrato che la società Lapegna da novembre ha cominciato ad organizzare la manifestazione. Intanto prosegue il cartellone Restate a Civitavecchia, promosso dal Comune e diretto dall'Associazione Liras di Claudio Sestili. Giovedì sera alla Marina, con ingresso gratuito, arriva Noah in concerto, l'artista israeliana. Il Comune consegnerà una targa per il suo impegno a favore della pace nel mondo. Ma ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità, a seguire ancora la nostra informazione.